Al San Cataldo è possibile aderire alla consulta comunale per la disabilità. C'è tempo fino al 20 agosto e quanto prevede un avviso pubblicato sul sito internet del Comune. Si tratta di un organo consultivo del Consiglio Comunale della Giunta Municipale, uno strumento di partecipazione democratica dei cittadini alla gestione pubblica nel settore della disabilità, delle risorse disponibili. La consulta promuove l'inserimento e il reinserimento delle persone con disabilità in diversi ambiti familiare, scolastico, sociale e lavorativo. I cittadini e gli organismi interessati potranno presentare richieste utilizzando il modello appositamente predisposto scaricabile come il regolamento dal sito web dell'ente.